Bella a tutti, nuovo video, nuovo export. Prima di cominciare vi ricordo che c'è ancora il giveaway in corso. Per partecipare vi basta mettere mi piace a questo video, iscrivervi al canale e lasciare un commento qui sotto. In più video lo fate, più possibilità avete di vincere un'ora di coaching completamente gratuita. E l'estazione del vincitore verrà mostrata nel video di lunedì. Quindi niente, questo è il video di iscritti, iscrivetevi se avete ancora fatto e cominciate subito con il video. Oggi vi porto il team con quale Lukamir è riuscito ad arrivare primo nella lada di showdown. Lukamir è un giocatore che giocava nel 2018, aveva fatto una lunga pausa fino al 2020 e poi al 2020 aveva smesso di giocare. E' tornato recentemente e ha trovato una lada con questo team qua. Quindi cominciamo subito a parlare di site spread. Allora, Gaston, Citrus Berry, Storm Drain come al solito è l'abilità che praticamente come potete vedere attira le mosse acqua e praticamente prendono in più uno ogni volta che prendono la mosse acqua e le mosse acqua non fanno danni come potete leggere qua. Ice Beam Air Power, Recover Yield ci può stare assolutamente in quanto Ice Beam, diciamo che Ice Beam Air Power come combo di mosse diciamo hanno molte più cover rispetto a Skull Air Power. Quindi ci sta sicuramente, Recover ci sta. Infatti a me piace molto il set con Leftovers e Recover. Poi con l'ultima volta si va Yon. Diciamo che a me Yon non piace molto anche per il fatto che diciamo in questo metagame qua non ci sono le Dairamax però comunque ci può stare tranquillamente. In quanto Forza si va come per esempio Cresselia a switchare oppure a dormire semplicemente. Quindi ci può stare tranquillamente. La spread è molto molto semplice, 60 più, quindi prende il buffo come vedete, 130 fa 132, gli HP 213 e la difesa provo a vedere cosa servono. E neanche la special defense. Però comunque ci può stare, Bulka è abbastanza generale come vedete, 1009 special defense, 111 in difesa, 213 HP ci può stare e 4 ore speed magari può superare l'antigastro. Devo dire che questo antigastro è molto molto più forte secondo me in best of one. Perché questo? Perché senza protect c'è un best of three o comunque a lista aperte. Qualmamente molto più a lista aperte che in best of three perché diciamo che in best of three potrebbero comunque non capirlo se sono comunque le liste chiuse. Quindi diciamo che sì, senza protect molto spesso i tuoi avversari andranno semplicemente a doppiarti in quanto sanno che non hai prote. Mentre se hai la prote è la più possibilità diciamo di proteggere questo gastro. Però diciamo che per la best of one va tranquillamente benissimo, dico che non funzioni anche in best of three o a lista aperte, però sicuramente è meglio qui. Passiamo a poi Shizor, Shizor completamente standard, Metal Coat che è uguale a Ironplay come vedete, Tecnicia X Shizor, Bullet Punch, Sword and Protect, Sped completamente standard. 2-2 HP, 2-2 attacco, volendo si potrà fare qualcosa di più complicato, cioè pochino più complicato come ho fatto io, tipo 2-3-6 di qua, mettere 4-12 però diciamo che per il dato che il team è suo e oggi siamo il suo team e se vi riteniamo esattamente come l'ha postato. Questo set come vedete standard l'ho colato pure ieri se non sbaglio, il set identico, quindi ci sta, ci sta sicuramente. Poi abbiamo Latios, Latios Specs, secondo me è un'ottima, non dico innovazione, però è un'ottima idea, anche perché ho visto molta molta gente giocare lo Specs. Io gioco ho Specs o Orb, però io bevisco molto di più su Specs. Dragon Meteor, Psakic, Ice Beam, Surf. Io quando ho provato ho un set diverso, nel senso che mi piace più avere Dragon Pulse per comunque riuscire ad attaccare senza droppare con la massa Dragon, però comunque ci può stare anche su questo set. Ho avuto perché a Surf, che ovviamente tornando a Gascon, uno Storm Drain, prende il boost ed è molto molto utile. Quindi Dragon Meteor e Psakic sono obbligatori. Ice Beam ci sta perché comunque potrebbe essere utilizzato per coverage, magari sui tipi grasso, queste cose del genere, anche se i tipi grasso sono di Brelum. Magari si Su un atomo Poi in non Terraria di dracomito Poi ti arrasbi Che penso che lì lo stesso E self ovviamente Serve per boostare anche i gastron La spell penso sia Obbligatoria questa Per lo specs In quanto 252 speed più Serve appunto per Superare tutti gli alti lati O comunque andarci in tie 252 di qua Così fa il massimo dei danni E 4 di qua va bene 4 da qualunque parte Andava benissimo qua E niente Che questo mi sembra Un attimo pokemon Penso che aumenterà Bastante i usage lati In quanto Oltre al set specs C'è pure il set con tailwind Che diciamo È uno dei pochi pokemon forti Che effettivamente tailwind Passiamo poi a Titar Titar lamberry Se stream rockstyle Crunch Dragon dance Protek Allora voi venite In un aspetto Per pensare Ok allora Perché non è adamant Esattamente Perché come potete vedere qua Adamant va a 110 Sapete cosa vuol dire questo? Esatto Vuol dire che A più uno va In tycoon guard Quindi non è assolutamente buono Quindi Sì È corretto Se potete giocarlo jolly 5 e 2 Diciamo che Non aveva i 4 nel pace Però li ho messi in difesa Semplicemente perché Se li metti qua Ghiacapivano 176 Non mi piace Cioè semplicemente È molto meglio Avere 185 Per la cosa che vi dico Sempre 16 anni E meno uno Quindi Ti può mettere 4 qua Anche perché Se li metti qua Diciamo che Non prendi Esattamente Il boost Che vuoi Con la senda Con un tipo Un tipo roccia Prende La special defense Boostata Secondo me È meglio Metterelo qua Molto meglio qua Comunque 7 standard Rocksteel Crunch Dragon Dance Protek Comunque standard Ci sta assolutamente Jolly Per il motivo Che avevo Per detto Cioè deve andare A superare Garchomp Dopo un Dragon Dance Passiamo poi Arcanine Arcanine Fijiberry Intimid Fable Snar Will always Protek Ci sta assolutamente Come standard 252 HP 252 Speed Qua non si è girato troppo Io magari avrei messo 166 per la bacca Giusto per la bacca Però Diciamo che Non è fondamentale Ci può stare Troppo Così Diciamo che Inizio Meta Vedete Molti team Così Cioè con 252 252 252 252 E 252 Praticamente qua Solamente uno spread Che non è 252 E ci sta Giusto sia così Perché la gente deve Sperimentare Vedere Cosa effettivamente I Pokémon devono regge Poi magari Se fai una partita E vedi che Titar poteva reggere Mech Punch di coso Meno uno Magari gli metti Un meno spread Un'altra è un po' complicata Anche se comunque Cioè diciamo che Nel fase iniziale del metagame È sempre giusto Tenere questo spread qua Abbiamo poi Sì Fairbit Snar Will of Wisp Come al solito Mosse Come niente è standard È giusto Giusto giocare a questa spread Al massimo sì Come ho detto Puoi togliere un po' di speed Cioè magari puoi farlo 151 Così superi solamente King Poi buttare Titar Fare Snar E cose del genere Però Diciamo che Se non hai voglia di farlo Ci può stare tranquillamente In quanto è inizio meta Comunque Passiamo poi Raiku Raiku penso sia Uno di poco più interessanti Diciamo che non si è visto tantissimo Inizio Inizio meta Diciamo Nei primi giorni Ado che comunque Siamo ancora inizio meta Assolutamente Lightcleaner Focus Tibalt Riflesso Snarl Volswich Quindi la cosa che possiamo notare È che è Lightclay Con solo riflesso Perché questa cosa Perché diciamo Per ridurre le mosse Che vanno con l'attacco speciale Preferisce Snarl Che ci può stare tranquillamente Secondo me Raiku Un ottimo Pokémon Però sì Evidentemente Magari ci poteva stare Un Tranquillamente Un light skin Su Snarl Secondo me Comunque ci sta Ci sta anche Snarl Ci sta anche Snarl Assolutamente Volswich e Tibalt Ci stanno Volswich più che altro Perché se metti lo schermo Hai finito di fare Il tuo speed con Dopo i volgi ce ne vai E con Tibalt Non sei obbligato A andartene Per fare danni Quindi ci sta Tranquillamente Magari ci potessi Mettere il light skin Di qua Però diciamo Che non è che cambia Moltissimo Tassonare il light skin Almeno secondo me Poi sì Gli HP 244 444 Spadella Bonatissima 252 Più qua Sì Diciamo che il team È molto molto standard Funziona bene Quindi Proviamolo subito Ok Averciare trovato Cresselia Kanga Vivile Suicun Arcanine E Hidmontop Hidmontop Non mi sembra Facilissima Tirar giù Eppure Vivile Da un botto Fastidio Forse devo Giocarmi Shidzor Qua Forse O devo Giocarmi Shidzor Ma ci sta Pure Mettere gli schermi Secondo me Ci sta Molto Mettere gli schermi Farei Raiku Allora Raiku Ci sta Il lead Cos'è che soffre Altro sì Un altro Kang Kang Gaza Kang Gaza Come avete visto Dal video Ieri Kang Gaza Un botto Cosa Lui fa Un botto Fatica A toccare Tranquilamente Stare Potrei fare Qualcosa Come Raiku Raiku Titar Volendo Raiku Titar In caso Switch fuori Per gas Non se Imi Da Imon Top Potrebbe Andar Bene Secondo me Raiku Titar Gastro Ultima Poco Chi posso Mettere Un altro Shidzor Arcanine C'è A dire Che Abbiamo Già Tutto Comunque Batto Arcanine Quindi Potrei Mettere Shidzor Tranquilamente Infatti Quello Che Farò Amicia Vediamo Lulid Kangaskansuikun Va bene Va bene Va bene Allora 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 In questa Occasione Lui farà Tipo Fake out Tailwind Penso Ci rai A Tailwind Sto Cosa Cosa Posso Fare Io Potrei Fare Riflesso Semplicemente Riflesso Dragon Dance Questo Sia Safe Come Giocata Ok Fa Fake out Perché Devi Farlo Perché Sennò Poi Non Può Far L'assa Resort E Fa Tailwind Ok Ci Ci sta Ci sta Ci sta Potrei buttare Non so se buttare Shizzano O se prendiamo Il last resort Non so che è meglio Buttare Shizzano E fare Un adenso Crunch Crunch comunque Ci sta Perché mando Un range Di attacco Di cose Ci può stare Crunch Perché lo mando Un range Di battle punch Penso Kang Vediamo Last resort Ok Non fa Moltissimo Le va di scalzutita Vediamo Se pesca Non pesca Il burro Buono Ok Non so se Rage In realtà L'assolo 5-2 Attacco Comunque Potrebbe essere Rage Potrebbe tranquillamente Essere Rage Potrei fare Ball punch Dentro Gastron Io Ok Buono Tu Arcade Ci sta Comunque Gastron Non sta Tranquillo Lì E c'è Per Qua Su Butt Buttacrest Ok Dischioso Molto Dischioso Però va bene Posso Se potete fare Voltage E buttarci L'altro E poi Li cago Muglione Perché così Crash Non comincia A bustarsi E fare le sue cose Penso Che soffriva troppo Ho sbagliato Devo fare Snarl C'è Non potevo Saperlo Però era anche Abbastanza Ovvio Comunque È che Comunque Mi aspettavo Di reggere Con range È che Comunque Si Come vede Vedere Qua Non siamo Molto Investiti Con Gastron Siamo A 52 A Messo Vede 52 Quindi Ci sta Non reggere Assolutamente Io Faccio Sword Dance E Volt Switch Sì Farei Sword Volt Ci vediamo Altro Arcanine Cos'è Che Ha fatto No Non ha Fatto Niente È Entrato E Uscito Ci Sta Ci Sta Vediamo Un po Non è Non è Non è Per niente Bene Non siamo Per niente Messi Bene Qua Non è Per niente Messi Bene Vediamo È rimasto Ha fatto Psychic Ha droppato Da su Ok Ha fatto Tornare Per droppare Laiku Però Ora Non è Messo Benissimo Lui Nel senso Forse Si Forse Non lo so Non lo so In realtà Cioè Posso Benissimo Installarlo Adesso Posso Benissimo Installarlo Lui Può Attaccarmi Titar Volendo Lui Può Posso Fare una cosa Del genere Senta Arkani Comunque Non si Prende Poco Lui Perché Vorrebbe Doppiarmi Titar Perché Poi Si Poi Mi Chilla Con Quell'altro Chissà Infatti Immaginavo Attacco Lo shot Così È Gratis Vediamo È Baccora Baccora Ok Allora Qua Una Giocata Se Li Faccio Se Mi Mi Doppia Di qua Mi Chilla Però Si Mi Doppia Di qua Io Posso Fare Sciso Di qua E poi Ho Tibolt Non Spesso Kill Secondo Me Ok Infatti Ha Ho Si Ballet Punch Più Tanto Ok Ha preso Il turno Vediamo Cosa fa Va bene Va bene Questo Ora Killo Arcanine Ora Killo Arcanine Se non Mi Muore Rai Cuda Scaldo Vinto Anzi Anzi Forse Ho Vinto Lo Stesso Facciamo Bullet Punch E Tibalt Vediamo Perché Poi Kang Ovviamente Viene Giù Vediamo Ok Predict Ah Andato Su Scizzore Però Ho Vinto Allora Ho Vinto Buono 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 Mi ha giocato Bene Mi ha giocato Bene Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Mi ha giocato Bene Anche se Lui Era messo Bene Ha detto Fuori Inergie Ball L'abbiamo Comunque La potenza Gas Un po' Venta Va Inergie Ball Ci sta Ci sta Ci sta Passiamo Alla Seconda Lui non è Neanche Bassissima Era quasi Millequattro Come Io ero Millequattro Venti Mi sembra Quindi ci sta Abbiamo Giocato Bene Ha giocato Bene Soprattutto L'endgame Lui Penso Abbia C'era Allora Era Safe Di Far Tibalt Se Lui Attaccava Dall'altra Parte C'è Li moriva Arcaride Tirava Scald Kangaskhan Brellum Garciam Suicun Rotum Mit Toicis Secondo Kangaskhan Di fila Comunque Secondo Kangaskhan Di fila Io ve l'ho Detto Che è Forte Io ve l'ho Detto Che era Forte Kangaskhan Allora 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 Cosa posso Fare Con Sto pensando Un attimo Qual è La lead Per battere Brellum Coso Allora 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 Latios Fa decente Fa Decentemente Latios Però Non ho Le lead Specifici Che batton Quella Roba Effettivamente Potrei fare Qualcosa Tipo Titar Arkanine No Perché lui Non lo so Non lo so Facciamo Non l'idea Non l'idea Facciamo tipo Arkanine Scizor Arkanine Scizor Non me lo tocca Benissimo Facciamo Arkanine Scizor Blade Portiamo Latios E Un attimo Gassero Così Ma lui Fa Su Ikul Kang Ok Va bene Comunque Non dovrebbe Toccarmi Dopo Cioè Mi farà Fake Out Su Arkanine E Scald Forse Scald Forse Non sono più veloce Comunque Quindi è importante Cioè Io ho fatto Kanga Max speed Perché ho detto Tanto chi lo gioca Cioè Nessuno gioca Arkanine Max speed Perché nessuno gioca Kanga Invece Se ora Gioca Kanga Non è più La stessa cosa Non funziona più Il trick Stiamo gastro Ha fatto Ficcanti Qua Va bene Va bene L'accetto 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 Ogni giorno L'accetto Ogni giorno Lo stesso Posso fare Sword dance Perché non voglio Comunque prendermi Un attacco Però sono obbligato Qua Facciamo air power Sword Ok Mi farà snarl Va bene Battle punch Dove pescare Comunque Si sta forse Recover Qua Si sta Probabilmente Con recover Non so Il battle punch Pesca Penso di sì Però Cioè Su metal coat Tecnici Andrò Sotto Lì Se ormai pesca Guarda Battle punch Sì sì Pesca sicura Dai Pesca sicura Ok Rifatelo Posso Perno full Buono Rotomit Rotomit Non tocchiamo Troppo Però va bene Posso fare Io ho una di qua Protect E lo obblighiamo A switchare dopo Over it Va bene Ok Chi è che non ho portato Io Ho portato Latios Dietro Ok Se mi killa qua Di over it Io poi entro E vinco Entro e vinco Io Quindi killami pure Si può rimanere Fare over it O vinto Perché poi entro Con l'atios Ok Rimasto Va bene Va bene Va bene Va bene Non è un problema Perché adesso Lì va nanna Io faccio io Uno pure con l'altro E entro con Cosa Entro con l'atios Ma però effettivamente Non lo so Non lo so Forse Eh però aspetta Lui si deve andare adesso Con questo Quindi faccio Quindi faccio ice beam E surf Se no dorme pure quello Vediamo se lascia dormire Anche quell'altro Non penso Non penso Lascire dormire pure quello Vediamo A posto A posto A posto Ok Ha funzionato il piano Il piano ha funzionato Surf Ice beam Easy 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 Ottimo 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 Ha funzionato Perché qua non l'aveva Svicinava Brelum Tog Kiss E Gart Mi bastava fare Surf Ice beam Si rimaneva con Swink Un dormiva E poi tiriamo Semplicemente Il surf E ho vinto Lo stesso Quindi Perfetto Perfetto Mi ha giocato bene E mi ha vinto Semplicemente Buono Buono 2 a 2 su 2 Per il momento 2 su 2 Ci sta Ci sta Ci sta Ne farei ancora Ancora 2 Barra 3 Dipende Quanto ci mettiamo Probabilmente 2 Probabilmente sono 2 Vediamo Vediamo Il team mi sta Convincendo Mi sembrava molto Molto forte Quindi Continuiamo Semplicemente Ok Avversario Trovato 1359 Noi siamo A Si 100 punti in più Ci può stare Ci può stare Ci può stare Considerando che non c'è Tantissima gente Al nostro ranking Allora 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 Cosa possiamo fare Contro sta roba Raikun Cioè Non so Esattamente come Dice Gestire Brellum Perché L'unico Lamberri E Titar Cioè Ovviamente L'unico Lamberri Poi solamente C'è Un strumento Però Allo stesso tempo Si Be Markle Anche più Veloce Non so Magari Eh però Si La Lamberri Serve Titar Non lo so Non so Esattamente Come gestirlo Possiamo rompire La Sesh Con Titar E poi Attaccarlo Però Portare Titar Per Brellum È Abbastanza Controsenso Secondo me Anche Di nuovo Un altro Kangatan 3 su 3 Kanga Porca Puttana Porca Puttana 3 su 3 Kanga Non me l'aspettavo Però Gaza Gaza Facciamo Shizor Arcanine Gastro Che esattamente Come ho fatto Prima E Latios Cioè Mi sembra Buono Semplicemente Fa questa cosa Perché Se ti Da Kanga Brellum Comunque Sei coperto Sei coperto Tranquillamente E Boh Vediamo Ok Brellum Kangastan Che esattamente Che lo aspettavo Contro Shizor Arcanine Va bene Va bene Va bene Allora Non so se Proteggere Fare due Prote Perché Poi Lui Mi tira La stresorte Comunque Però Posso Burnarlo E fare Xizor Comunque Poi Quella situazione Di status Ho sempre messo Bene Io Si fa Fick out Di qua E spora Non mi conviene Quindi mi conviene Semplicemente Fare due Prote Poi Willowisp Kanga E Xizor Di qua Penso Vediamo Fick out Spare Di qua Ovviamente Ok Tutto Nella norma Tutto Nella norma Adesso Willowisp Di qua Forse Bullet punch Però Così Non brucia Un turno Mi conviene Far così Mi conviene Brucire Un turno Semplicemente Ok Ottimo Direi Che Non mi Posso Lamentare Di Sta Cosa Direi Che Non mi Posso Lamentare Ok Ha Fatto Ma C'è Di Quella Roba Adesso Posso Entrare Con Vediamo Se mi fa Tibalt Su Schizor Comunque Ok Mi fa Danni Però Cago La Swordless Va bene Se fa Quello Wisp Va bene Vediamo Un po Vediamo Un po Cosa Cosa Va Fare Lui Se Fa Hydro Pump Non parte Perché Ho Gastron Dietro C'è Entra Gastron Adesso Vediamo Vediamo Un po Vediamo Un po Vediamo Un po Lui Ci sta Pensando Tanto Vuol dire Che Non sa Cosa Fare Qualmente Lui c'ha per Schizor E Fatto Hydro Pamp Vabbè Ottimo turno Per noi Allora Ottimo turno Per noi Decisamente Posso fare Non so se fare Airpower O cosa Su Schizor Cioè Potrei anche Doppiarlo Shuttarlo Però Riesco Fare così Non so se Fare Airpower Piuttosto Che fare Altre cose Ok Volevo anche Doppiare Schizor Però Sembrava Un po Troppo Gridi Per Schizor Qua Ci sta A killarlo Questo Non lo so Allora lui mi farà X-Chizor Di qua Ma mi sa che Devo fare Aspè Devo fare X-Chizor Di qua Dentro Arcanem Mi sembra Mi sembra La giocata migliore Vediamo Protegge No Ha fatto X-Chizor Buono 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 Le ho presa Morto Scizor E abbiamo Vinto Vediamo È obbligato A far Fake out Perché la Storia Sort Non la può Fare Ma se Questo è L'unico Problema Di Kang Che sai Già Cosa fa Semplicemente Non ha Molto Opzione Di Kang Purtroppo Farà Fake out Io Io non Entro Di Cosa Qua Non Entro Mai Di Quell'altro Posso Fare Fair Bits O Mi conviene Snarl Mi conviene Snarl Di brutto Ok Fa Fake out Si prende Snarl Va bene Nasty Plut Va bene Io ho Snarl Ballet Punch Qua Pesca Sempre Vinco Quindi Facciamolo Ok Ballet Punch Pesca Diretto Tra l'altro Lì forse Potevo entrare Con l'altro Ma tanto Fa la T-ball Di qua Esatto Fa sempre T-ball Di qua Minch Abbiamo vinto Pure questa Incredibile Incredibile Niente Scammate Oggi Zero Scammate Incredibile Incredibile Facciamo Ballet Punch E Snarl Forfettato Forfettato Abbiamo vinto Poi con Latius Vabbè Abbiamo Cioè Tutte le partite Abbiamo gissite bene Abbiamo scelto bene I Pokémon Gissito bene Va bene Tra zero Tra zero E facciamo l'ultima Facciamo l'ultima Se vincere bene questa Gaza Gaza un botto Su team A parte che in generale Gaza un botto In generale Gaza un botto Però ci sta Ci sta Ci sta Ci sta 3-0 così Easy Con sto team Gaza Molto molto forte Secondo me Resped Come ho detto Sono un attimo migliorabili Però A parte quello Sì Ci sta Ci sta Ci sta Mi piace molto Anche Arkane Max Speed Almeno Potrei giocarlo Anche 157 Diciamo che Distraveressi un po' Di Un po' Di FC Speed Shizor ovviamente Magari non ha bisogno Di tutti Però sì Alla fine Quello gioco Viva era praticamente Uguale Allora Sono un attimo Più veloce Raiku Ci può stare così Finché non hai calcoli E Titer è obbligato A già essere giocato così Magari puoi togliere Un po' di attacco Però poi non so Quanti anni fa Jolly Non max attacco E Vertex Prime Shizor Togikis Cressel Riyama Più Sand Allora 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 Non ha mosse fuoco Non sembra avere mosse fuoco E gli HP Fire non esistono Non sembra avere mosse fuoco Io direi Arkane Comunque C'è Arkane fa bene Conto lui Conto lui Conto lui Conto lui Conto lui Conto lui Se faccio Arkane Non è scinto Risca troppo Ah lui può avere una mosse fuoco Aspetta Lui può avere una mosse fuoco Lui può avere una mosse fuoco Questa cosa qua Allora 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 Posso fare Gastro e Arkane Gastro e Arkane Dietro mi tengo a Shizor Perché comunque Mi sembra uno spleco Non portarlo qua E Mi porto Latios Mi portiamo Latios Dai Ci sta anche Titer Una volta tolto quello lì Però ci sta anche così Ok Peter Gartrop Va bene Va bene Lui farà Forse IQ Switch out Penso Potrei buttare Latios E fare Ice Beam Fare Willow Whisp di qua In realtà Non so Farei più Ice Beam di qua Vediamo Ha fatto Sword Ha fatto Dragon Ok Ice Beam però Hittato Va bene Va bene Va bene Ice Beam è hittato Non è al massimo questo Però abbiamo Posevamo comunque Le intimidire Cioè Cos'era sta mostra tra l'altro Proprio setup Vabbè Facciamo Art Power Così le mandiamo Nel G-Ballet Punch Crunch ok Rock Slade Va bene Per Power Va bene Muo i danni Muo i danni Muo i danni Muo i danni Per 1 HP Ecco No Non per 1 HP Per 2 HP Non andiamo in bacca Fosse 896 Per 2 HP Non è in bacca Anche con 7 Ovviamente Farò Protector Power Io Oh questa volta Non mi conviene Forse Forse mi conviene Buttare Scizzor Per avere comunque Intimente dopo di rientro E facciamo Ice Beam Ok un altro dance Ci sto Rock Slade Va bene Ok Ci può stare Onestamente ci può stare Onestamente parlando Ci può stare Questa cosa Spero non mi caghi Qualcosa di strada Lui comunque Per favore Per favore Eh Che buono è morto Ottimo Ottimo lui fa Continua a fare Rock Slade Cioè è un pazzo criminale Lui si è sbattuto A vero A vero Ford Ci sta Gaza Ci sta E Gaza Scizzor Crescelia Togi Kisariyama Vediamo Vediamo chi entra Togi Kisariyama Laceous fa benissimo Cioè Ariyama Lo considero morto Onestamente Butterei Arkana E ne farei Ice Beam Così lo mando in range Di Di Bullet Punch Vediamo Ok ci sta Lo sapevo io Lo sapevo Lo sapevo Se hai tutto il tic Per la scizzor Qualche scammata Ce l'hai per forza Cioè scammata Poi ha senso Non c'è nulla di sbagliato In giocare quella roba Se faccio Se cerco a fare un attacco È vinta Faccio un recover Tanto lui deve protetto Ok se non ha protetto Ha perso Perché gli faccio Bullet Punch Ed è morto Muoglio da close combat No Ovviamente no Ovviamente no E torno pure full Torniamo pure full T'altro Che lui era Non so che neanche Come si chiama lo strumento Porca puttana Non so neanche come si chiama Lo strumento io Avere Facciamo Bullet Punch Power Attacco Comunque ho vinto Perché lui Morirà probabilmente Nel power Vediamo Vediamo Ma qui ho vinto sempre Sì Bullet Punch morto Farà close combat Su Gastron Va bene Anche avessi gritato Cioè l'Atters ogni volta Non deve neanche entrare in campo Cioè è incredibile Non deve neanche entrare in campo L'Atters Va bene La vita è tutta Tutta è comunque Rating alto Siamo 1.44 Vediamo quanto siamo E poi Concludiamo l'episodio Sì come vedete qua Non siamo altissimi Siamo 41esimi Però ci sta Cioè il 41esimo ci sta La 7% di GXE è Gaza Gaza è il brutto Gaza è il brutto Adatto che comunque Le parite le avete viste tutte Quindi ci sta assolutamente Quindi niente Vi lascio qui il team Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace Se non vi è piaciuto il video Mettete un mi piace E niente Bene ragazzi Vi vediamo al prossimo video Grazie a tutti